Bocca al lupo alle squadre veronesi, siamo alla palla a volo con una maglia speciale che Rana Verona ha voluto presentare ieri dedicata all'Opera Liriche all'Arena. Una maglia che è un omaggio all'Arena di Verona, presentata ieri sera nell'oggiato del Palazzo della Gran Guardia all'anteprima di Opera, la terza maglia in edizione speciale che la prima squadra vestirà durante la stagione di Superlega. Ad indossare una versione unica della divisa è stato Capitan Rok Mozic scelto come gonghista durante l'ultima presentazione stagionale dell'Aida. Intanto in queste ore Rana Verona è in viaggio verso la Polonia. Questo weekend la squadra di coach Stoicev parteciperà nella città polacca di Cestokova al Memorial Januszka Sigoskiego, un'occasione per affinare l'intesa verso l'inizio della Superlega. Rana Verona in Polonia affronterà lo Zaksa, allenato quest'anno da una vecchia conoscenza della pallavolo scaligera come Andrea Gianni.